Nessun di sequestro, anzi, i sigili della magistratura al castello Svevo di Oria resistono e addirittura per loro si profila una proroga di altri sei mesi, chiesta dal PM Antonio Costantini, titolare delle indagini. Il castello, lo ricorderete, finì sotto sequestro il 10 ottobre scorso per truffa ai danni dello Stato, presunti abusi di dizi e violazione dei vincoli architettonico-pesaggistici durante i recenti lavori di restauro. Le attenzioni della magistratura si concentrarono su otto persone, iscritte a vario titolo nel registro degli indagati. Isabella Caliandro e Giuseppe Romanin, titolari della Borgo Ducale SRL, proprietaria della struttura, Pietro Incalza, ex dirigente dell'ufficio tecnico di Oria, Severino Orsan, direttore dei lavori, Salvatore Bonomo, dirigente della soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici, Antonio Bramato, Giovanni Accacudi e Attilio Mourano, funzionari della soprintendenza. Solo qualche giorno fa la custodia giudiziale era passata dal sindaco Cosimo Pomarico ad Emanuela Romanin, rampollo della proprietà, al fine di effettuare urgenti lavori di manutenzione. Un atto che aveva fatto pensare ad una sorta di preludio al dissequestro e invece, mentre si attendono gli esiti della perizia effettuata dal consulente tecnico d'ufficio solo qualche settimana fa, ecco arrivare la nuova tegola. Altri sei mesi di indagini e pertanto maniero ancora congelato ed evidentemente lungi dall'essere restituito non solo ai proprietari ma anche e soprattutto alla città federiciana.